Ciao ragazzi, oggi nuova sfida, tema bagno, giochiamo Beat the Flash, gioco in cui con un'antenna magnetica dobbiamo recuperare dei germi, poi dobbiamo lanciarli dentro un water ma occhio agli spruzzi che come vedete sono decisamente clamorosi e ci si bagna tantissimo. Beat the Flash è un gioco che ancora non c'è nei negozi di giocatori italiani ma si può reperire facilmente online e vi lascio il link qua sotto nelle info del video. Diamo un'occhiata veloce alle istruzioni che ci insegnano a montare la base bagno di gioco, montare le fascette con le antenne e poi inserire anche le batterie ma partiamo vedendo proprio la base in cui andiamo ad inserire queste quattro leve in plastica flessibile che ci consentono di lanciare i germi una volta che li abbiamo catturati. Quattro colori diversi per quattro possibili giocatori per una sfida veramente all'assalto di questo water. Abbiamo anche una tacca perché dobbiamo metterci dell'acqua e quindi questo è il livello. Qui c'è il motore, l'elica che andrà a risucchiare l'acqua che poi vedrete da questi tubi finirà letteralmente in faccia ai giocatori. La posizione è studiata benissimo, allineata ovviamente al lanciatore e poi andrà anche a mescolare i germi che saranno sotto la base del water e il water ci sorride in maniera decisamente molto lazzarona devo dire, è molto simpatico. Alzando e abbassando la tavoletta parte il meccanismo. Qui andiamo a inserire le batterie, non sono incluse nella confezione, ci vogliono due batterie di tipo AA e le inseriamo per far funzionare sia l'elica giratutto che poi anche l'effetto pompa che non parte subito per cui il gioco prima fa solo girare i germi, poi girano, poi parte l'acqua ragazzi ed è una doccia, credetemi, totale. Questi sono i germi che sono magnetizzati, hanno un piccolo magnete che poi permette ad essi di essere catturati dall'antenna. Antenna che è una fascetta molto molto solida che permette di essere regolata sia per testi piccole che per testi grandi quindi va benissimo come gioco utilizzato in famiglia ed è devo dire molto molto stabile. Ci permette di andare a pescare il germe, per cui vedete arriva il germe e io lo vado a pescare magneticamente. Mi ricordo un po' se vi ricordate la pallina, quella che hanno i cattini dei peparelli, più o meno è veramente molto simile. Alziamo la tavoletta, vi dicevo, e parte il gioco. Allora i germi vengono scagliati da tutte le parti, noi dobbiamo prima raccoglierli con la nostra antenna, dopo una volta raccolti possiamo con la mano andare a prendere e dobbiamo raccogliere ovviamente il germe del nostro colore e cercare di lanciarlo. Ora lanciarlo non è facile ragazzi, per cui il consiglio è aspettare che la tavoletta sia di fronte a voi, di modo che come tabellone da basket il germe rimbalzi sulla tavoletta e poi finisca nel water e ragazzi sì possiamo andare alla sfida! Ale mettiamoci in ghiacchiappa germe, vai! ho chiappato qualcosa ma ho chiappato il gioco ragazzi! Io per evidenti motivi... Scusa! Ti ho fatto male Ale? Scusa! Vai via da me! Sì da spadaccina vai Ale! Ho già ricevuto! Stavo dicendo che per motivi che scopriremo in futuro tolto gli occhiali! Ma andiamo a versare l'acqua nel nostro scusale campo di gioco, meglio bagno di gioco, c'è un livello, ok eccoci qua nella nostra camera, vai vai metti! Menti deve arrivare al segno! Nooo! Andiamo a inserire quello che potremmo chiamare il water, ho sempre il terrore di colpirti! Anche io spreco e tu mi colpisci! Ma questo gioco! E il primo spruzzo è arrivato! E poi è il turno del nostro water super sorridente, lo giriamo, lo incastriamo e lo schiacciamo! E adesso una caterva di germi! Vai con i germi! E i germi! Io prendo i germi azzurri e tu quelli gialli! Non fregarmi i germi! Sia mai! Ho mai fregato un germe io in questa casa? Forse una chiappa germe? Cosa fai Ale? Spostiamo la bottiglia perché potrebbe cascare! A chi l'onore di alzare la tavoletta? Il giocatore più giovane! Grazie Ale, grazie! Con questa palla faccio sorridente, faccio notare! Uno, due, tre... Via! Ed è... È partito, è partito ragazzi! Un attimo di ritardo! Un attimo di azzurri! Allora... No, no! Gialla, gialla! Pesa! Pesa gialla! La posso inserire qui sulla mia catapulta! Ora aspetto che mio butter si giri! Vieni, vieni da me! Attenzione! Vai! Primo lancio! No! Ha fatto un lancio tortissimo! Dove l'hai lanciata? Allora! Dove l'hai lanciata? Dove so? No! No! È difficil... Arancione! È difficilissimo ragazzi! Nel frattempo l'acqua sta spruzzando! No! No! Sta spruzzando! Dici che spruzza qui in là? Ah! Siiii! No! Come è già andata? No! Vai ragazzi! Gialla! Gialla l'ho presa! Attenzione! Vai! Tavoletta! Vieni da me! Vieni da tavoletta! Vai! Sì! Vai! Uno pari! Uno pari! Ci siamo! Attenzione! Con le gialle! Con le gialle! Hai fatto due! No! Sì! Ma come si? Forza! No! No! Sì! Vai! Ho preso un'azzurra! No! Vai! Gialla! Gialla! No! Azzurra! Vai! Gialla! Gialla! Eccole! Eccole! Non riesco! Ma dove sono? No! Ho preso la rossa! Vai! Gialla! Gialla! Attenzione! Si sta girando! Vai! Girati! Attenzione! Se no! No! È cascato dalla tazza! Non ci posso dire! La gira più veloce! Mi sembra che stiamo aumentando la velocità! Ho più di impressione! Vai! Croce la pallina! Attenzione! Vai! Vai! Non posso avere! Non posso avere! No! Lo stai facendo! Sì! Vai! È entrata! Ma io non riesco neanche a prendere! Mi stanno incrociata! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Una rossa! Vai! Stai facendo! Non mi sono rossa! Non mi sono rossa! Non mi sono rossa! Non mi sono rossa! No ragazzi! Ho preso una blu! Non mi sono rossa! Non mi sono rossa! Non credo in tutto che valgano! Se ce ne fremmo è giusto! Vai! Le hai presa? Un po' anni! No! Nono! Dai! Ah! Non mi sono rossa! Ho iniziato a sfruttare ragazzi! Sfrutta tantissimo! Ho perso la pallina! Ahahahah! Terribile Negli occhi Non mi sto a vedere niente Forse è ragione Ragazzi tutto è altissimo Dappertutto Non ho preso una di quel colore Non capisco più niente Mi ha preso anche la faccetta Non è scattato Mi ha venuto a tirare Abbiamo una botta E' vero E' mica scatto anche questa Andiamo al pavimento ragazzi Arrivo con la carta Consigliamo di giocare all'aperto Oppure di stendere una grandissima vasca da bagno Sotto di voi Ragazzi togli quella cosa E' pericolosissimo Ecco bene Adesso mi sento meglio Andiamo a contare i germi ragazzi Allora uno questo blu Due questo blu Perché pesco solo blu io Questo giallo va bene Questo è blu ancora Non mi pare un buon segno Uno deve toglierlo Uno deve toglierlo perché te l'ho gettato io letteralmente Tre E No hai vinto Ale Quattro e tre Perché guarda Ho messo l'ultimo Del secondo in cui si è spenta l'acqua No poteva essere un pareggio Ma noi la rivincita la facciamo lo stesso Controlliamo il livello dell'acqua ragazzi Ce n'è ancora Ce n'è ancora ma direi di rabboccare Notare la bottiglia rossa in panna con il gioco ragazzi Incredibile Andiamo a versare Giusto perché vogliamo bagnare salotto Inseriamo il water E occhio che i germi girano dappertutto Abbiamo rinserito il nostro La chiampa germi Il giocatore che ha perso ha l'onore di rialzare la tazza Ok Uno Due Tre Via Lui ci mette un attimo E poi ci pensa a parte Allora No Vai un po' Un gioco Ok giallo Ma sei già pronta Non è possibile No come già la prima Porta Vai ragazzi Una gialla Ma poi sei già la seconda Ecco Perfetto Potevi lasciarmela Vai No no Ho battuto Ho proprio il dentone del water Vai un'altra Ma come sei già pronta No vabbè mi hai fatto un lancio più amoroso Ale Io sono un cecchino dei germi No Un cecchino dei bagni o dei germi Attenzione Aspetta un tappo La tazza Vado Sì è andata Ok No C'è un'azzurra È tua Non c'entra niente Una gialla No un'azzurra ancora E sono tutte di quale No 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 Gialla 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 E' dei momenti a buoni E' dei momenti qui E' pieno del tuo colore Ragazzi Eccolo qua Eccolo qua Sono sparite Non è possibile Forza No 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 Vai 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 Presa 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 Attenzione Ne hai fatto un'altra Non si può credere Gira 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 Forza Che tensione Potrei farla una al contrario Ma come Ho fatto un lancio incredibile ragazzi È andata sulla televisione Vai No Ale ancora La ragazza non ce la posso fare No Ma poi con l'acqua sarà peggio No Dai Oh dai 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 Tesa Ok vai Attenzione al mio momento No ma l'ho visto che sfortuna ragazzi È andato sulla tazza Ha rimbalzato Mentre le tue entrano sempre al primo colpo Non ci posso credere Vai Uno Due Tre Aspetto un attimo la tazza Aspetto Oh momento di tensione L'ho trovata anche da qua Vai è andata È andata È andata Sono in fondo No l'ho pescata da lì Non mi passare No l'ho pescata da dentro Non mi metto Non ci posso credere Dai gialla No ho preso una rossa Dai 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 Guarda gialla Sì ho preso una gialla Vai adesso ho fatto che arrivi la tazza Deve fare tutto il giro Forza Forza Dai mi sembra che sta recuperando Dai 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 Ale si è inceppata Ale si è inceppata Non gira più Doveva fare tutto il giro Vai No ancora ha preso Non ci posso credere La sfortuna dei miei lanci È incredibile No io uno l'ho andata E non è andata Diciamo così Ah boh Non è capitato Non spostarmi il batter Ale Non spostarmi Eh no il batter Non lo sposto Vai no Ma cosa hai fatto Non si fa Hai spostato il batter Vai Ok è andata È andata Oh Dove sono le blu E quelle gialla No è partita l'acqua Ragazzi è partita No ho preso un'arancione Vai Anche se c'è l'acqua Devo farse Un po' arancione Occhi aperti Occhi aperti Sì L'ho preso un'arancione Il batter si sta spostando Ha cambiato direzione No deve fare tutto Un giro Mi fa anche voi Bagnerò tutto Gira 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 Potrebbe essere Quello il pareggio Dai Con gira Con gira Forza No 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 Ti fai Non aspetta Deve spuntare la tassa Ale Ho tirato malissimo L'ultima Quell'ultimo lancio Ale me lo ricorderò Ogni volta Che andrò sul water Andiamo a contare Mi sa che sarà dura Una gialla Per me Un'altra gialla Per me Ma solo un inizio Perché io alle fine Le ho messe Un'azzurra Un'azzurra Una gialla Un'azzurra 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 Finite? Sono finite Ale Ah no Ancora Basta Ragazzi Attenzione State attenti Con la chiappa germe È pericolosissimo Non guardate mai Il vostro avversario Non guardate mai Per nessuna ragionale Mi stai guardando? Un po' Non guardarmi Non guardarmi Attenti io faccio così Ti tordisco Direi a questo punto Che il campione water Della casa Sei tu Ale Non c'è bisogno Di una rivincita Quando sei 3 contro 5 Quando la tazza Ti dice di no Perché le cose rimbalzano E finiscono fuori E speriamo succeda solamente Nel gioco Non va assolutamente bene Beat the flash ragazzi È un gioco Veramente molto simpatico Ci vuole concentrazione Pazienza Ci vuole un salotto In grado di resistere all'acqua Bisogna stare tutto atteso Però non devo girarmi Insomma c'è un po' di tutto Ed immagino che in 4 Con queste a cappa germe Possa succedere veramente di tutto Giocando a tutti i lati Del campo di gioco Se questo video ragazzi Vi è piaciuto Mettete un pollicione Noi ci vediamo su Instagram GPR Vi lasciamo un link Qua nelle info del video Ci vediamo ai prossimi video Qui su GPR Ciao Ciao